L'associazione so che sta già lavorando perché l'edizione 2022 non è annullata ma è posticipata. Castiglionfi Bocchi non rinuncia all'edizione del suo storico carnevale. Con qualche mese di ritardo mette in calendario due uscite straordinarie, il 24 aprile e il 1 di maggio. I figli di Bocco dunque torneranno nel borgo toscano per l'edizione numero 25 della manifestazione presentata anche in consiglio regionale. Fu proprio il presidente della regione toscana Eugenio Gianni alcune settimane fa ad inaugurare presso il centro polivalente del paese una mostra dedicata ai 25 anni della manifestazione. Poi questa è una zona dell'Aretino che a me piace in modo particolare. Del resto al sindaco Ermini ho fatto i complimenti per il livello di valorizzazione dell'identità a Castiglionfi Bocchi. È stata bellissima la statua che è stata posta nella rotonda che porta a Castiglionfi Bocchi ricordando così 700 anni dalla scomparsa di Dante che qua in queste zone ha vissuto molto del periodo del tempo dell'esilio. Ma contemporaneamente Castiglionfi Bocchi ha questa bellissima occasione del carnevale. E quindi anche una vita sociale molto forte, questo centro, questo auditorium può aiutare proprio questa vita sociale che porta Castiglionfi Bocchi ad essere una bella comunità di cui io più volte ho avuto modo di rendermene conto. 300 le bellissime maschere che potranno anche essere immortalate in foto a colori o in bianco e nero dagli appassionati di fotografia che potranno partecipare ad un concorso fotografico. Una iniziativa realizzata in collaborazione con Fotoclub La Chimera, Fotoottica, Franchini e Arezzo TV.